Buongiorno e buona domenica! Per me oggi è domenica, non avevo in programma oggi di registrare nessun video ma mi sono accorta poco fa di aver cancellato tutte le clip che avevo registrato venerdì cioè sono andate completamente perse e le ho cancellate stanotte cioè la scorsa notte a cavallo tra sabato e domenica invece di dormire mi sono messa a fare pulizia del telefono mi è arrivata una mail all'1.39 della notte che mi ha svegliata e poi da lì non sono più riuscita a dormire io solitamente sacco la connessione internet prima di andare a dormire ieri sera mi sono dimenticata e quindi appunto mi è arrivata questa cioè in realtà lascio la vibrazione che così almeno se ci dovessero essere chiamate d'urgenza posso sentire il telefono però appunto tutti i messaggi su whatsapp, le mail le vedo poi la mattina quando mi sveglio e stanotte invece con la connessione mi è arrivata questa mail e da lì non sono più riuscita a dormire complice anche il fatto che mi sta per arrivare il ciclo credo che domani arriverà perché poi mi si è presa a male tantissimo e mi è venuta ansia, ho iniziato a pensare alle solite cose che potete immaginare mi sono fatta vari piantarelli tutto questo in completo silenzio nel letto anche se però in realtà meno male che il mio fidanzato aveva i tappi per le orecchie perché il venerdì sera e il sabato sera qua vicino c'è la discoteca e fanno casino i ragazzi verso le 4 e mezza di notte quando escono dalla discoteca oltre a spaccare i vetri storia che ben sapete perché ve l'ho raccontata fanno proprio casino, passano sotto a questa strada e quindi lui si mette i tappi per le orecchie io non riesco a dormire con i tappi però meno male perché così almeno non mi ha sentito che mi giravo, mi rigiravo provavo a cercare di riaddormentarmi tra vari piantarelli appunto che mi sono fatta però non riuscivo proprio e quindi a un certo punto ho preso il telefono e mi sono messa a fare pulizia di foto che avevo sul telefono che erano da cancellare, di clip vecchie, di video che ho già pubblicato perché alcune scene io le giro con il telefono quando sto in giro quando invece sto in casa la maggior parte delle scene ne sono registrate con la videocamera quindi ora mi sono rimaste delle clip della videocamera di venerdì poi venerdì è stata una giornata carinissima perché in pomeriggio ho finito di tradare che erano le 15 e 39 cioè ci ho messo 9 minuti e mi sono portata a casa a 103 euro credo e ve ne parlavo cioè ce l'ho ancora quelle clip perché stanno nella videocamera però vabbè comunque ci ho messo pochissimo e allora ho detto vabbè sai che c'è esco e vado a fare un giretto sono andata all'Ikea, sono ritornata un attimino da Primark perché dovevo prendere delle cose poi dopo ve le faccio vedere quando torno a casa e vabbè tutto questo mi sono persa per dire che tutto quello è andato perso tutte quelle clip di quando stavo in giro sono state cancellate perché io ovviamente quando faccio pulizia sul telefono la faccio fatta bene cancello anche il cestino e in più a me mi si collegano subito a Google Photo quindi anche lì sono andata, ho fatto una bella pulizia sono andata sul cestino di Google Photo e anche lì ovviamente l'ho cancellate ma non solo quelle, proprio anche vecchie foto che non mi piacevano tipo dei doppioni meno male c'è da dire che non ho fatto danni con foto veramente importanti ecco, però è meglio non farle queste cose di notte veramente meglio non farle quindi vabbè poteva andare molto peggio quindi potevo cancellare veramente ricordi importanti ho cancellato le clip di venerdì e altre foto che non avevano importanza quindi va bene, facciamoci una ragione e quindi oggi tutto questo per dire che voglio registrare però perché comunque il video lo voglio pubblicare lunedì anche perché questo weekend non facciamo niente di che ieri che era sabato siamo stati a casa perché mio fidanzato sta studiando per un esame e ha studiato sia ieri che era sabato che oggi che è domenica e siccome io in settimana voglio uscire voglio andare in centro a Firenze visitare varie cose ho deciso di portarmi avanti con il lavoro quindi tutte le cose che avrei dovuto fare in settimana me le avvantaggio, le ho già fatte gran parte ieri e anche oggi continuerò però adesso voglio uscire a fare dei piccoli giretti veloci perché in quelle clip di venerdì andavamo da Ikea e vi facevo vedere delle lenzuola molto carine e poi se mi conoscete un pochino dai video che ho pubblicato fino ad ora sapete che io ci metto un bel po' per decidermi prima di acquistare qualcosa perché sono sia soldi spesi che cose che poi magari ti metti in casa e non utilizzi quindi se devo spendere dei soldi e comprare qualcosa voglio utilizzarla bene quindi ci penso molto ci ho pensato in questi giorni e mi sono decisa di comprare tutto questo per dire che vorrei comprare delle lenzuola da Ikea e quindi ora le andiamo a vedere in più devo fare altri giretti credo di avervi detto tutto ho fatto un recap veloce in più venerdì vi facevo vedere che ero andata da Lidl a prendere dei cuscini ci sono dei cuscini lunghi che servono per dormire su un fianco io mi alterno tra un fianco e l'altro però mi piace abbracciare anche il cuscino e lì c'è proprio un cuscino lungo che serve per abbracciarlo ma vi arriva fino a giù ai piedi molto comodo l'abbiamo provato venerdì l'avevo preso solamente per me inizialmente poi venerdì pomeriggio sono ritornata da Lidl e l'ho preso anche un altro per il mio fidanzato ve lo consiglio anche perché da Lidl è quello che costa di meno è della Livarno e costa 11,99 euro ce l'ha anche Ikea perché poi venerdì sono andata da Ikea a prendere le federe lunghe in 100% cotone e lì il cuscino costa 15 euro mentre su Amazon costa un pochettino più di 12 euro se non sbaglio quindi se vi interessa che piace anche a voi abbracciare qualcosa mentre dormite io ve lo consiglio veramente molto comodo e quindi niente anche questa cosa il cuscino ve l'ho detta adesso andiamo a fare questi giretti dai c'è un sacco di gente a quest'ora da Ikea sono le 10 e 20 della mattina e ho faticato un po' per trovare parcheggio comunque stamattina mi sono messa questa che è una giacca a vento cioè in realtà è uno shell cioè un guscio che non tiene caldo perché è proprio finissimo però è antipioggia e in più ripara dal vento e la trovate adesso da Decathlon in questo colore specifico scontata mi sembra del 50% e me l'ha comprata il mio fidanzato quel giorno che siamo andati da Decathlon se ne è comprata così una anche lui però vabbè da maschio da maschio di un altro colore e questa qua era scontata proprio perché sono i soliti colori che non riescono a vendere e che quindi poi dopo scontano e è fatta veramente bene anche la zip sotto per far prendere aria poi magari ve la faccio vedere bene quando arriviamo a casa e adesso andiamo a vedere le lenzuola queste sono le lenzuola che avevo visto ci sono in questa palette di arancioni fucsia poi questa qua con i verdi e i gialli lime e poi questa qua dei marroni a me piace sia questa che quella là e costa 29,95 il completo quello matrimoniale e è in cotone e vediamo se mette a fuoco è in cotone e viscosa ho messo cotone e viscosa e rimane però un pochettino ruvidino poi in realtà avevo visto anche questo ma questo già tempo fa è da tanto che c'è e mi piaceva mi piace come come fantasia questa beige con i puas costa 35 però questo rimane ancora un po' più ruvidino rispetto a quello perché è tutto cotone e poi avevo visto in realtà questo pure mi piace tantissimo ma c'è solamente singolo e poi vi volevo far vedere una cosa c'è questo piumino che abbiamo noi a casa che questo invece si sente che è di una qualità superiore perché aspettate che c'è la voce che parla ecco io volevo far vedere questo qui che è quello che abbiamo noi a casa che si sente che ha una qualità di una qualità più alta perché ho messo cotone e l'Iosel quindi rimane proprio più liscio al tatto e adesso è scontato infatti l'avevamo pagato 45 euro invece adesso costa 35 con lo matrimoniale allora a me piace tanto questo mi ha proprio colpito questo range di colori e appunto questo come vi dicevo è misto cotone e viscosa e rimane leggermente più ruvidino al tatto rispetto a quello con il misto l'Iosel per esempio questo si sente che è più liscio è misto cotone e l'Iosel però lui per esempio ha detto che questo è un po' troppo femminile quindi non gli piace mentre questi qua io ho mandato la foto sia di questa palette che di questa qua che anche per esempio mi piace però io vorrei prendere questo solo che ora mi ha risposto dicendo che per lui è indifferente però che in camera da letto andrebbero evitati i colori troppo accesi e quindi non lo so quali devo prendere perché a me anche questo in realtà non dispiace come combinazione colori riguardiamoli un attimino bene quello là però mi piace proprio tanto con quell'arancione però effettivamente se ci devi dormire forse non è il massimo forse è meglio prendere questo qua che magari ha dei colori un po' più rilassanti oppure prendo direttamente questo non lo so ora magari gli mando la foto anche di questo anche questo mi piace tantissimo e rimane più liscio al tatto è sempre cotone e liosel solo che è molto simile però a quello che abbiamo cioè sempre la stessa fantasia con i fiori rimane solo con la base un po' più scura oppure anche questo mi piace vi faccio vedere questo qua fatto così però questo ecco rimane un pochino più rovidino perché c'è messo cotone e viscosa questo a lui mi ricordo che gli piaceva però avevamo scelto al tempo quello lì ce l'esse con i fiorellini perché rimaneva più liscio al tatto ora gli sto mandando le foto e poi decidiamo allora ho fatto sto andando alla macchina secondo voi quale ho preso? non ve lo faccio vedere adesso dai lo lavo e poi tanto oggi lo metto ad asciugare sui termosifoni e lo voglio mettere già stasera quindi ve lo farò vedere direttamente nel letto o più tardi in questo vlog adesso prendo ah eccola la chiave ce l'avevo in tasca lo metto qua dietro non ho preso neanche la busta per tanto appunto avevo solamente questo questo articolo quindi non serviva la busta vedo l'ora di arrivare a casa lavarle e metterle quindi in genere quando è così è perché sono effettivamente soddisfatta della scelta che ho preso e invece a volte quando cerco di autoconvincermi c'è questo dove vuole andare mamma mia quando appunto è semplicemente ha sorpassato per ora starmi davanti e stare fermi al semaforo c'è una lunga fila ma lui aveva bisogno di sorpassarmi vabbè e in genere quando invece compro qualcosa poi continuo a pensarci in macchina cerco di autoconvincermi che sia stata la scelta giusta a volte invece non lo è quindi dovrebbe essere stata la scelta giusta allora vi dico qua velocemente in macchina perché sento che c'è l'altoparlante con varie canzoni della radio quindi non vorrei poi che youtube mi bloccasse dopo il video per copyright comunque sono arrivata al centro commerciale i gigli faccio proprio toccata e fuga voglio andare un attimo all'OVS a vedere se ci sono dei prodotti per capelli di Giada della marca Giada che era quella marca che vi avevo fatto vedere nello scorso video e una di voi Silvia mi ha scritto un commento sotto a quel video dicendo che lei si trova molto bene con alcuni prodotti e allora dopo aver letto quel commento ho fatto un po' di ricerca credo di aver capito quali prodotti siano poi magari ora vedrà cioè quando vedrà questo video dirà no hai toppato non erano quelli prodotti e vabbè comunque ho fatto la mia ricerca e vorrei prendere una maschera quella le proteine che diceva lei che dovrebbe essere nella confezione nel tubetto rosso e un olio vediamo se ci sono e nulla adesso vado faccio una cosa veloce e poi devo prendere due cose giusto di spesa e poi andiamo a casa ecco li trovati allora credo che l'olio sia questo qua questa è la linea quella per i capelli ricci quella rossa e ci sono tutti questi prodottini qua credo che prenderò questo olio lucidante che può essere utilizzato sia sui capelli bagnati che anche sui capelli asciutti e appunto costa poi non capisco perché non li spolverano mamma mia sono pieni di polvere allora costa 16,95 e poi vabbè c'è la mousse questo cos'è shampoo secco capelli rossi e poi questo è uno shampoo questo cos'è crema leggera leave-in no eccole allora ecco allora io vorrei prendere questa la maschera modellante ricci però online ero un pochino indecisa fra questa e questo qua che è l'impacco modellante che tra l'altro è rimasto solo questo quindi forse è quello più venduto non lo so sono un po' indecisa fra questi due questo costa solamente un euro in più ora leggo bene dietro ma credo credo abbiano un pochino la stessa funzione lei ha parlato di maschera alle proteine questo è un impacco però poi qua c'è scritto che ha le proteine ho provato a leggere gli ingredienti cioè l'inci e più o meno sono gli stessi però credo che andrò con questo stavolta mamma mia che maleducazione comunque sto qua da Lidl ho appena finito di fare la spesa entro in macchina e vi dico anzi mi tolgo dal parcheggio che devono parcheggiare allora ho finito di fare la spesa sto andando a casa e comunque la gente è veramente maleducata a parte che a me questo Lidl non è che piace più di tanto perché non lo so è frequentato da gente brutta e maleducata ecco per non dire altro ma cioè proprio maleducati e oggi per esempio stavo mettendo a parte che guardano poi vabbè uomini intendo uomini non di Firenze guardano un sacco e poi oggi sono stati particolarmente maleducati perché stavo mettendo la spesa sul rullo della cassa e avevo ho comprato un po' di cose proprio perché mi voglio portare avanti e non fare la spesa in settimana perché voglio andare a fare vari giri in centro a Firenze quindi non mi va di stare a perdere tempo con la spesa e insomma ho fatto un bel po' di spesa la stavo mettendo sul rullo non avevo ancora finito qua c'è la strada chiusa niente mi tocca tornare indietro ecco questa macchina che fa retromarcia ora la faccio anch'io no hanno chiuso la strada ok aspettate un attimo ah comunque mi sono dimenticata di dirvi nell'altro vlog ma credo si capisca che quando faccio quando faccio retromarcia non guardo indietro semplicemente perché ho la videocamera e che mi fa vedere quello che c'è dietro la macchina ecco tutto qua non giro la testa o guardo dallo specchietto comunque stavo mettendo la spesa sul rullo e non avevo ancora finito ne avevo un bel po' ancora nel carrello e questi signori dietro di me iniziano a mettere la loro spesa cosa cioè gli ho guardati per dire cosa state facendo ma non gliel'ho detto e gli ho tipo fulminati con lo sguardo perché nel frattempo stavano continuando cioè se il rullo intanto scorre io poi mi metto tutta la spesa sistemata bene tipo le cose che devo mettere nella busta del fresco in modo che almeno se non ho tempo quando arrivo a casa so che c'è la busta del fresco che va per forza messa in frigo tutto il resto poi può aspettare quindi io me lo divido già in categorie e mentre se tu che stai dopo di me metti già la tua spesa sul rullo mano a mano che il rullo scorre io non ho più posto per mettere la spesa mamma mia veramente certa gente non lo so proprio maleducata comunque aspettate un attimo qua c'è traffico la domenica mattina la gente gira gira per fare la spesa e altre cose invece di solito noi la domenica andiamo in giro con la moto però oggi è una domenica un pochino diversa perché il mio fidanzato sta a casa che deve studiare e allora ho deciso di rimanere a casa anch'io anche se è la prima domenica del mese e in realtà tutti i musei cioè i musei statali e comunali vabbè gran parte dei musei in tutte le città d'Italia sono gratuiti e volevo andare stamattina solo che non ero proprio dell'umore giusto quando mi sono svegliata poi avendo dormito anche poco ho detto vabbè sai che c'è rimango a casa mi avvantaggio con il lavoro quello aziendale della settimana e in modo che poi per gran parte della settimana sono libera e andrò nei musei pagherò il biglietto però almeno c'è meno gente me la prendo un pochino più tranquilla e poi comunque mi fa piacere stare a casa se c'è anche il mio fidanzato allora buonasera chiudo la porta della cucina perché ci sono le polpette che stanno cuocendo dovrebbero essere quasi pronte che ore sono? sono le 18 e 20 sì è un'oretta che stanno cuocendo le ho girate adesso ma tanto tra 5 minuti le vado a spegnere mamma mia allora sì devo riprendere un attimino il fiato allora siamo sempre a domenica oggi pomeriggio come vi avevo detto ho lavorato al computer poi verso le tipo 5 e un quarto mi sono messa a fare le polpette e polpette al sugo che stanno cuocendo oggi quando sono tornata a casa ho fatto la lavatrice ho lavato quelle lenzuola e le ho messe ad asciugare ma sono un pochino delusa del risultato quando sono tornata a casa era l'ora di pranzo mi sono messa a fare il pranzo e poi sì prima di preparare il pranzo ho fatto la lavatrice siccome ero impaziente di metterle poi stasera ho fatto la lavatrice quella veloce da 30 minuti a 30 gradi perché tanto comunque erano confezionate e poi le ho messe un pochettino di fuori oggi però era una giornata abbastanza nuvolosa quindi dopo un po' le ho messe sui termosifoni perché a un certo orario si accendono i termosifoni quindi le ho messe lì e effettivamente adesso sto guardando qua perché c'è il copripiumino che l'ho messo qua sul termoarredo del bagno e effettivamente è asciutto quindi ora ero finalmente pronta per rifare tutto il letto e invece no non lo posso fare allora vi faccio vedere innanzitutto il copripiumino che ho scelto ma vi dirò che ora sono anche un pochino tentata di riportarlo indietro perché tanto c'è la policy si la policy resi che ha i tempo 365 giorni per riportare indietro un articolo se non ti piace anche se l'hai usato basta che stai in buone condizioni allora vi faccio vedere innanzitutto il colore che ho scelto poi vado a spegnere le polpette se no mi si bruciano ho scelto questo colore che vi devo dire mi piace molto ora la luce è veramente pessima qua là dietro vedete un altro lenzuolo steso non rende forse però vi posso assicurare che è veramente molto bello come colorazione vado a spegnere le polpette e poi vi dico qual è il problema allora polpette spente vi faccio vedere il copripiumino e questo siccome è ancora leggermente ma proprio leggermente umidino ho iniziato a mettere le federe nei cuscini e vi ho portato qua un cuscino perché qui la luce è un pochettino più fredda e è più veritiero il colore vabbè io non le stiro le lenzuola tanto poi dormendoci si risgualciscono comunque dov'è il problema a me come colorazione piace molto il problema è che questa è una stampa e avendo fatto il lavaggio a 30 gradi si sente proprio che è rimasto molto plasticoso perché appunto è stampato il tessuto quindi la parte questa qua tipo giallina avendo meno colore quindi avendo un colore chiaro diciamo rimane molto morbida e va bene la parte questa verdina chiara anche rimane molto morbida questa inizia ad essere un pochettino plasticosa ma il problema è questa blu perché è veramente plastica cioè sinceramente non ci avevo fatto caso in quello che stava lì in esposizione secondo me anche perché aveva un diciamo un finistaggio un pochino diverso quindi magari l'hanno reso più morbido proprio per tenerlo lì in esposizione vedete il tessuto è proprio stampato quindi ora io domani lo voglio lavare a una temperatura molto alta per vedere se la parte diciamo il finistaggio che hanno messo sopra può andare via non lo so se magari il tessuto a lungo andare lavandolo e rilavandolo può diventare più morbido altrimenti io lo riporto indietro ecco perché costava così poco perché effettivamente ha una qualità molto bassa che ore sono sì adesso vado a preparare un'insalatina devo finire qua di sistemare ah ecco vedete quelli sono i cuscini quelli di Lidl poi domani ve li faccio vedere meglio con la luce ma comunque come vi ho detto stamattina se vi piace dormire con laterali con le cuscini ho questi super consigliati e le federe costano 5 euro all'ikea devo finire di mettere il copripiumino che avevo tolto quello lì celestino con i fiori e poi vado a fare un'insalatina stasera ci continuiamo a guardare l'anime dello studio Bibli quello che mi ha consigliato Monica la principessa Monoke non mi ricordo come si chiami comunque ci è piaciuto molto solo che abbiamo iniziato ieri sera ma dura parecchio tipo due ore e qualcosa e quindi ci sono rimasti tipo 58 minuti circa stasera guarderemo quello oggi pomeriggio poi vi volevo far vedere anche gli acquisti che avevo fatto da Primark credo fosse giovedì avevo comprato un po' di oggettini carini però adesso con questa luce pessima veramente non è il caso di farveli vedere e poi tra poco inizio a preparare la tavola e poi ci metteremo a cena volevo anche provare quella maschera che ho comprato stamattina con quell'olio però come vedete appunto non ho fatto lo shampoo proprio perché stasera avevo intenzione di fare le polpette e adesso non mi va proprio di farmi lo shampoo stasera quindi lo farò domattina e vi farò vedere tutto direttamente nel vlog che uscirà martedì adesso vi saluto e ci vediamo poi domani con un altro video ciao